in una cosa credo ognuno di noi nel bene o nel male è la sua storia anzi le sue storie comprese quelle non vissute solo immaginate sognate questo siamo e ora credo di aver imparato che forse siamo un po anche le storie delle persone che abbiamo incontrato quelle storie cui abbiamo imparato a voler bene come fossero la nostra ma che nostre non sono